Buongiorno, sono Manuel Carrion e voglio augurarvi una giornata fantastica questo 11 settembre 2017. Il pensiero di oggi è il karma di gratitudine. Ogni volta nella vita ci troviamo nelle condizioni veramente belle e questo è un karma bello, un karma positivo, che dobbiamo essere grati e quindi aiutare anche altri a sciogliere il loro di karma. Il karma di gratitudine è qualcosa di davvero speciale e unico e con questo voglio augurarti il Buongiorno Carrion.